Voci dal mondo, riflettori sull'attualità internazionale. Buongiorno da Gabriella Lepre con la politica estera di Voci dal mondo, un programma in diretta a cura di Gaetano Barresi. Con i caucus dell'Iowa di domani e l'assemblea di partito chiamata Esprimersi sui candidati, parte la corsa verso la Casa Bianca che si concluderà col voto del prossimo 8 novembre e l'insediamento del successore di Barack Obama il 20 gennaio 2017. Dalle primarie all'Election Day, passando per le convention democratiche e repubblicana di luglio, sarà una stagione elettorale lunga e complessa che porterà all'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Salutiamo il nostro ospite di oggi, Giampiero Gramaglia. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Giampiero Gramaglia, giornalista, già corrispondente dell'Ansa da Washington, consigliere per la comunicazione dell'Istituto Affari Internazionali IAI e grande esperto di America, come leggiamo nel suo blog GP News USA 2016, con tante curiosità, chicche, di cui speriamo di riuscire a parlare nella puntata di oggi. Però, prima di entrare nel vivo del nostro focus, le elezioni americane, vorrei porre a Gramaglia una domanda sulle speranze della conferenza di Ginevra sulla Siria in corso in questi giorni e sull'ennesima strage nel mare Geo, un fenomeno purtroppo connesso al conflitto in Siria, una strage di siriani ma anche di afghani e birmani, fra loro tanti bambini, e con un'Europa sempre più paralizzata, possiamo dire, sempre più chiusa in se stessa. Ieri un episodio anche molto grave in Svezia di nazi skin, uomini mascherati, che hanno aggredito i migranti, quindi parallelamente stragi nel Mediterraneo e intolleranza crescente in Europa. Sì, fenomeni connessi ma separati nelle loro logiche. La Siria e i negoziati di Ginevra sono senz'altro partiti in tono minore, risentono nella difficoltà iniziale dei contrasti che sono emersi all'inizio dell'anno tra Iran e Arabia Saudita, anzi tra Arabia Saudita e Iran, risentono dei contrasti perduranti e di nuovo acuti in queste ore tra Turchia e Siria, risentono del fatto che i protagonisti del negoziato, quelli che dovrebbero essere i protagonisti del negoziato, rispondono a logiche e a referenti che hanno priorità diverse. Fatto sta che a Ginevra è arrivata la delegazione del regime siriano che ha avuto i primi colloqui con la delegazione dell'ONU, è arrivata una delegazione ma poco rappresentativa dell'opposizione con un mandato molto limitato, le prospettive sono di una trattativa che andrà avanti per molto tempo senza che l'esito positivo sia scontato fin dall'inizio. Per quanto riguarda invece la vicenda dei migranti è chiaro che nelle condizioni attuali il flusso di migranti continuerà la situazione nei paesi al confine con la Siria e limitiamoci a considerare il flusso dei siriani, è insostenibile in Libano, in Giordania, è difficile da sostenere in Turchia se anche arriveranno i 3 miliardi di euro di aiuti promessi dall'Unione Europea. Si ricordiamo in Turchia ci sono 2 milioni e mezzo circa di rifugiati fermi appunto in territorio turco. Esattamente, sono nati, leggevo mi pare l'altro ieri in un rapporto dell'ONU, sono già nati 70.000 bambini siriani turchi, nel senso che nei campi sono già nati 70.000 bambini dai profughi siriani, quindi una nuova città di nuovi siriani è nata in Turchia nel periodo del conflitto e il flusso, la pressione dei rifugiati sull'Unione Europea provoca accanto a grandi momenti di accoglienza, anche là dove i momenti di accoglienza sono più grandi come in Svezia e in Germania, provoca poi dei momenti di disagio, di tensione e di rifiuto. Poi noi come informazione qualche volta contribuiamo alla confusione perché quando si legge con scandalo che la Svezia ha deciso di respingere 80.000 non richiedenti asilo o persone che non hanno diritto a richiedere l'asilo e se ne fa appunto un motivo di sorpresa, ci si dimentica che le regole attuali dell'Unione prevedono che chi ha diritto all'asilo venga accolto e chi non ha diritto all'asilo venga riportato nel paese d'origine, nel paese da dove è partito. Veniamo invece alle presidenziali americane. Negli ultimi sondaggi Donald Trump, il magnate è in testa con il 28% delle preferenze tra gli elettori repubblicani, tra i democratici è un testa a testa fra Hillary Clinton e Bernie Sanders rispettivamente al 45-42%. Lo scandalo dell'e-mail però torna a minacciare la campagna di Hillary Clinton. È così Gramaglia? Sì, i dati che tu hai dato Gabriella sono i dati relativi all'Iowa che è il test di apertura delle primarie. I dati a livello nazionale danno al momento fra i repubblicani un schieramento simile con Trump sempre nettamente in testa. Fra i democratici il vantaggio di Hillary sul suo rivale Bernie Sanders è più netto. Ma senz'altro gli elementi di scheletri nell'armadio che accompagnano la lunghissima carriera politica e pubblica di Hillary Clinton, otto anni da first lady, sei anni da senatore dello Stato di New York, quattro anni da segretario di Stato fanno sì che possano emergere elementi da questo suo passato che i suoi avversari e in questo momento direi i repubblicani soprattutto cercano di sfruttare per indebolirla. A pensarci bene o con i metri di giudizio italiani lo scandalo delle email può apparire ed appare poca cosa. La colpa è di aver usato un account privato al posto dell'account pubblico per gli scambi di email quando era segretario di Stato. Sì, magari ci scandalizzeremo, noi fosse più per il contrario, no? Forse. Sì, o magari ci scandalizzeremmo e avremmo ragione di farlo se ci fossero passaggi di denaro, vantaggi acquisiti o meno. Però negli Stati Uniti anche questo può bastare a creare malessere. Bisogna dire che l'avversario diretto per la nomination democratica di Hillary Clinton Bernie Sanders in questo è stato molto cavalleresco e corretto, ha subito sgombrato il terreno da questa polemica, fin dal primo dibattito fra i due ha detto parliamo di cose che interessano gli americani, non parliamo di queste bagianate. Corriere diplomatico Nelle elezioni primarie americane si fronteggiano non soltanto candidati ma idee radicalmente diverse nell'ambito degli stessi partiti tradizionali. La rapida e inarrestabile ascesa dei due outsider Donald Trump e Bernie Sanders, lontani e ostili alle gerarchie dell'establishment repubblicano e democratico, ha dirottato la campagna presidenziale su binari impensabili fino a pochi mesi fa, scompaginando la strategia elettorale dei candidati dal profilo più istituzionale come Hillary Clinton. Enzo Arceri ne ha parlato con Mario Delpero, docente di storia internazionale all'Istituto di Studi Politici di Parigi, Sciences Po. Quale partito repubblicano e quale partito democratico si confrontano alle prossime primarie? È un partito repubblicano in una certa misura ostaggio del fenomeno Trump e quindi anche ostaggio di un messaggio politico radicale ed estremo su alcuni temi nodali a partire da quello dell'immigrazione. È un partito democratico più concentrato sui contenuti caratterizzato da un confronto, da un dibattito politico indubbiamente più civile e di sostanza ma al contempo un partito democratico molto anziano, molto vecchio, con due candidati Hillary Clinton e Bernie Sanders prossimi 70 anni o più vecchi di 70 anni. Un partito democratico fa fatica a rinnovarsi e fa fatica a rinnovare la sua classe dirigente. Qual è la posta in palio per Donald Trump e Hillary Clinton in Iowa? Hillary Clinton ha bisogno in una certa misura di vincere perché quasi certamente perderà in Hampshire dove i sondaggi invece indicano un chiaro vantaggio per Sanders e lo stesso Trump ha bisogno di vincere per dare un'aura di ineluttabilità alla sua candidatura. È importante per entrambi ottenere un buon risultato, è importante per entrambi vincere e forse è più importante per Trump. Una sconfitta di Trump dopo essere stato in testa nei sondaggi così a lungo potrebbe mettere in crisi la sua candidatura e soprattutto aprire la strada a una candidatura terza alternativa a quella di Cruz, una figura magari più moderata e più credibile anche in prospettiva presidenziale. Apparentemente sia Trump sul versante dei repubblicani sia Sanders sul versante dei democratici rappresentano un atto di sfida al Partito Democratico e al Partito Repubblicano così come sono stati identificati fino ad adesso. È realmente così? In una certa misura rappresentano una crisi della politica e fino anche delle istituzioni. Una politica vissuta come distante e anche in una certa misura come corrotta e questo spiega tanto del fenomeno Trump e del fenomeno Sanders che sono fenomeni molto diversi. Sanders è un uomo politico di lungo corso, anche un uomo pragmatico a rispetto del suo messaggio radicale. Trump è un businessman che ha oscillato su posizioni diverse, è stato a lungo nel partito vicino ai democratici, ha finanziato molte campagne democratiche. Se vogliamo il comune denominatore è un'antipolitica, è un rigetto di un establishment che molti ritengono abbia tradito il paese o non sia più capace di soddisfare le esigenze e le richieste di questo paese spaventato, preoccupato e soffre ancora dell'onda lunga della crisi economica del 2007-2008. Perché Hillary Clinton per l'ennesima volta si trova ad arrancare dietro un outsider nel 2008 Obama, oggi Sanders? Diciamo che Hillary Clinton ha un problema politico e un problema personale e una campagna elettorale, i due si combinano. Il problema politico è che l'elettorato democratico si è radicalizzato, soprattutto nelle primarie quando a votare sono gli attivisti, i militanti, tende a spostarsi verso sinistra e il centrismo della Clinton non soddisfa questa esigenza politica, questa pressione politica. Vi è poi un problema personale, Hillary Clinton non è carismatica come il marito, non genera profonda fiducia, è oscillata su posizioni molto diverse e questo la rende relativamente credibile o relativamente forte come candidata. È chiaro che Sanders non è Obama, è davvero difficile immaginare che Sanders possa sottrarre la nomination alla Clinton. Le 9.17.22, siamo in diretta su Rai Radio 1 con voci dal mondo, elezioni americane. Gian Piero Gramaglia, se il miliardario newyorkese si afferma nei caucus di lunedì in Iowa potrebbe la sua vittoria innescare una sorta di reazione a catena che renderebbe il suo treno verso la Casa Bianca inarrestabile come la vedono molti analisti, soprattutto repubblicani. Trump finora non ha praticamente avuto rivali in campo repubblicano perché ha troppi rivali. Sono tuttora 12 gli aspiranti alla nomination repubblicana. Gli unici che emergono con una propria individuale forza elettorale sono Trump che ha la forza, noi diremmo, dei populisti, dei qualunquisti, di quelli che è tutto da rifare e che bisogna cantargli alla chiara a quelli di Washington e il senatore del Texas Ted Cruz che ha la forza del Tea Party. I due poi si dividono un po' la forza degli evangelici ma in fondo sia Trump che Cruz pescano nell'elettorato più conservatore, più retrivo se vogliamo della destra americana. Tutti gli altri candidati pescano nell'elettorato o cercano di pescare in quote individuali molto modeste nell'elettorato tradizionale e conservatore, moderato e conservatore. Prima o poi tra quei 12 emergerà un candidato tradizionale repubblicano. Si pensava all'inizio che fosse, che dovesse essere, che fosse destinato a essere Jeb Bush, figlio di presidente, fratello di presidente, ex governatore della Florida. Bush finora è stato molto pallido nella campagna elettorale. Ha preso più forza Marco Rubio, senatore della Florida, il più giovane dell'otto. Insomma, prima o poi emergerà un antagonista di Trump. Certo, se in tutte le prime primarie Trump scappa avanti e acquista forza, la sua candidatura diventa una valanga, ma è una valanga che potrebbe poi infrangersi alle elezioni dell'otto novembre contro il carattere molto limitato del potenziale elettorato a livello nazionale del miliardario, del magnate e dell'immobiliare di New York. Ci sarebbe poi l'ipotesi della candidatura di Mike Bloomberg, l'ex sindaco di New York, starebbe valutando l'ipotesi di scendere in campo come indipendente per la corsa alla Casa Bianca e avrebbe intenzione di spendere almeno un miliardo di dollari per finanziare la propria campagna elettorale. Una candidatura realistica, probabile? Credibile? Mike Bloomberg, sindaco di New York per tre mandati, l'unico, non ha problemi di soldi come tu correttamente ricordavi, è uno degli uomini più ricchi al mondo, quel poveraccio, fra virgolette semplici, di Trump è soltanto settantaduesimo nella classifica dei più ricchi, lui mi pare che sia nei primi dieci e ha una sua capacità e ha una sua notorietà a livello nazionale negli Stati Uniti. Il terzo uomo negli Stati Uniti perde sempre e al massimo fa perdere qualcuno nelle elezioni ma non riesce a vincere. Però se quest'anno i due candidati dei maggiori partiti dovessero essere fortemente polarizzati, cioè dovessero essere un Trump e un Sanders, allora lo spazio al centro per un candidato centrista capace di attirare sia voti repubblicani che democratici come Bloomberg sarebbe interessante. Dopo il New Hampshire il 9 febbraio c'è grande attesa ovviamente il primo marzo per il Super Tuesday, la giornata più importante delle primarie perché si vota in 14 stati insomma, fino poi ad arrivare attraverso le varie tappe dopo il voto nei vari stati chiave come Florida da Ohio il 15 marzo, poi New York il 19 aprile. L'ultimo voto sarà il 14 giugno nel District of Columbia dove c'è ovviamente la capitale Washington e appunto dove ci sarà appunto l'ultimo voto il 14 luglio prima delle convention di luglio. Insomma una corsa ostacoli abbastanza lunga, quali sorprese possiamo aspettarci? La cosa più divertente dal punto di vista giornalistico, non certo dal punto di vista della vita dei due partiti, sarebbe arrivare, almeno per i repubblicani è possibile, a una convention aperta, cioè arrivare alla convention senza che nessuno dei candidati alla nomination abbia acquisito, e questo fra i repubblicani è possibile, la maggioranza assoluta dei delegati alla convention, quindi la sicurezza di essere nominati. È invece probabile che nel corso di questi voti molti candidati si ritirino e alla fine esca già un vincitore nel corso delle primarie. Non troppo presto il super martedì perché già ci sia il vincitore, ma le indicazioni saranno molto precise, senz'altro dei dodici candidati repubblicani dopo il super martedì non ne resteranno più di tre o quattro. Cambiamo argomento, pochi giorni fa a Palermo una donna siriana un iracheno di origine kurda sono stati bloccati mentre cercavano di salire a bordo di un aereo diretto a Londra esibendo falsi passaporti. Negli ultimi tempi episodi simili si sono verificati in altri aeroporti minori italiani, Orio Alserio, Genova, Roma, Ciampino. Sono dei test per verificare la tenuta dei nostri controlli da parte dei terroristi? La risposta di Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa. Non è da escludere, però c'è da ricordare anche che almeno due di questi tre aeroporti sono piccoli sì, ma che comunque fanno, se non sbaglio, tra i 3 e i 5 milioni di passeggeri l'anno. I controlli peraltro sono gli stessi che ci sono anche negli aeroporti maggiori, a Fiumicino, a Malpensa, per cui non so se effettivamente sia possibile parlare di un test da questo punto di vista. Chiaramente la minaccia c'è, ma ci sono anche molti modi per entrare in Italia, non semplicemente attraverso gli aeroporti in sostanza. Adesso chiaramente si intensificheranno i flussi o comunque la pressione verso il nord-est attraverso la rotta balcanica, poiché il nord Europa ha temporaneamente chiuso le frontiere. La rotta balcanica e i Balcani oggi costituiscono un problema serio per la sicurezza dell'Italia. Più volte negli ultimi mesi si è parlato di cellule ISIS presenti in Kosovo, Bosnia. Io lo posso confermare. Ricordo che sia in Siria, sia in Iraq, nel file di ISIS ci sono molti cittadini kossovari o bosniaci. A ciò aggiungiamo i controlli non propriamente severi che in alcuni di questi paesi vengono effettuati. La rotta balcanica oggi è un problema serio per l'Italia. C'è poi la questione dei cosiddetti terroristi in trasferta che abbiamo visto purtroppo in azione, per esempio negli attentati di Parigi dove questi jihadisti si muovevano con grandissima disinvoltura tra Belgio e Francia. Si sono fatti progressi nel contrastare questo fenomeno. Se andiamo a vedere quello che è successo dopo Parigi effettivamente i controlli sono molto più intensi, profondi e incisivi alle frontiere di Schengen. Anche perché questi signori che hanno colpito anche a Parigi sono cittadini europei nella maggior parte dei casi e quindi si potevano muovere liberamente tra un paese e l'altro all'interno delle frontiere di Schengen. Per cui questo è l'altro grave problema che dobbiamo fronteggiare. Credo che i controlli debbano essere sempre più forti e incisivi alle frontiere. Questo è fuori di dubbio anche perché i cosiddetti foreign fighters in Europa, a mio avviso, sono ancora molti e costituiscono una minaccia attuale. ISIS, i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli. Di Alessandro Orsini, Rizzoli. Vincenzo Mungo ha intervistato l'autore, direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo a Tor Vergata e docente all'Università LUIS di Roma. L'ISIS, lei scrive nel suo libro, è un'organizzazione fortunata che è stata anche favorita da altri paesi. Per quale motivo i jihadisti avrebbero ricevuto l'aiuto di alcune capitali? L'ISIS è l'organizzazione terroristica più fortunata del mondo perché a causa di una incredibile serie di circostanze internazionali i paesi che dovrebbero combattere contro l'ISIS si sono paralizzati a vicenda. Noi sappiamo che Obama e Putin dichiarano di continuo che la loro priorità è la lotta contro l'ISIS ma in realtà questo non è vero. La priorità della Russia e degli Stati Uniti è la lotta per la conquista di Damasco. Significa questo che nessuno vuole per il momento iniziare la vera lotta contro l'ISIS perché gli americani temono di liberare dei territori dall'ISIS che poi rimarrebbero sotto l'influenza di Bashar al-Assad e i russi anche non vogliono inviare truppe di terra a combattere seriamente contro l'ISIS perché temono che nel frattempo i ribelli filoamericani andrebbero a conquistare Damasco. Ma nessuno ha aiutato direttamente l'ISIS tra le grandi potenze? Non credo che ci sia stato nessun aiuto diretto da parte né delle grandi potenze né delle piccole potenze. L'ISIS è stato favorito prima che diventasse stato islamico quando i paesi del Golfo Persico hanno finanziato tutti i movimenti che lottavano contro Bashar al-Assad compresi anche i movimenti fondamentalisti e i movimenti jihadisti. L'ISIS potrà essere sconfitta? L'ISIS rappresenta una grande minaccia per le società occidentali. I suoi tempi di vita sono tutt'altro tre brevi. Non dimentichiamo che l'ISIS ha fondato 8 province al di fuori della Siria e del Iraq. È presente con province ufficiali in Afghanistan, in Pakistan, in Libia. Quindi se anche noi dovessimo sconfiggere al Baghdadi, se anche dovessimo riconquistare l'Aqqa e Mosul, il problema continuerebbe a esistere e quindi io ritengo che per molti anni noi dovremmo confrontarci con la minaccia terroristica. Gremaglia condivide quest'analisi del professor Orsini, quindi una lotta che sarà ancora molto lunga. Veramente ieri è arrivata la notizia che ci sarebbero stati anche dei sospetti reclutatori dello Stato Islamico persino in Ruanda. Quindi a macchia di leopardo si allargano le province, le zone di reclutamento del sedicente Stato Islamico. Se seguiamo la geografia del terrorismo nelle ultime settimane vediamo che questo allargamento è nei fatti purtroppo e la capacità di fare proselitismo del califato è molto alta, soprattutto là dove ci sono situazioni di tensione, contrasto e anche frustrazione da parte delle popolazioni locali. Per quanto riguarda le nostre capacità di difesa e qui mi richiamo all'intervista precedente a Batacchi, direi che l'importante è che l'Europa rafforzi di molto il controllo e la protezione delle frontiere esterne, affidandole all'unione piuttosto che rinforzare le frontiere interne. Grazie a Gian Piero Gramaglia per essere stato nostro ospite, il nostro tecnico di oggi Stefano Siani, l'aiuto in redazione sempre grazie a Emanuela Giurisato. Per riascoltarci visitate il nostro sito vocidalmondo.rai.it, la nostra pagina Facebook. Gabriele Lepre vi dà appuntamento con l'attualità internazionale di voci dal mondo a domenica prossima, dopo il GR1 delle 9, sempre Rai Radio 1.